siamo diretti al valley of fire questo parco statale della nevada qui abbiamo lorella che guida salutate tutti sono arrivati italiani sono sbarcati gli italiani qua ora ci prepariamo per la scrittura del giorno questo è la carmen siamo nella valle del fuoco c'è posto per una persona qui ora vengo giù tenti a non farvi male quel sasso lì è stato lì migliaia di anni e se tutto va bene viene giù proprio adesso se proprio siamo fortunati a vedere i petroglifici qui ad atlet rock oh it's pretty nice this is pretty nice atlet rock prende il nome di questo throwing stick per lanciare delle lanci guarda c'è una specie delle scale poi vedi che è collegato con questa specie di piedi guarda quell'animale che c'è in mezzo è lo stesso te l'ha però la manca manca qualcosa anche qua sotto no è quell'uomo lì guarda che la sua tazza piede viene giù è infatti vedi che sia il percorso che la mamma ci vado oh abbiamo filmato il pulmino della Pink Panther E lo ricordi del prima che avevamo il sentito detto questo l'hai fatto scorta io voglio andare sto filmando e lo metto nel video è vero scorta scusa 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 lì c'è lui qui dietro che deve fare io voglio fare la discesa e così qui è bello arrampicare su via tutta questa strada ho visto dei filmati che firmano le macchine che arrivano io voglio chiamare montagne gruviere ho parlato di rughe mentre faccio filmini tipo di crisi ma buona buona io ti dico in questo periodo la priorità A presto 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 A presto